i grandi veicoli da lavoro scivoli e palline che meravigliosi scivoli con tanto di piscine una piccola macchina rossa sportiva corre tra gli scivoli cosa vuole fare? salta per vedere cosa c'è nella piscina oh no! le piscine sono vuote! andiamo a cercare qualcuno che possa riempirle i garage sono tutti chiusi ehi c'è qualcuno nei garage servono tante palline per riempire le piscine chi può aiutarci? ehi sveglia! ehi! è ora di mettersi al lavoro dobbiamo riempire le piscine di palline e allora bussiamo alla porta! si apre! ciao autocarro viola hai tante palline nel cassone sono proprio quelle che ci servono anche l'autocarro giallo ci aiuterà con le sue palline gialle ed ecco l'autocarro di un bellissimo blu anche lui ha tante palline blu vediamo se quello verde si le vediamo appena ma sono tante palline verdi nel suo cassone e ora non possono mancare le palline rosse del camion rosso evviva possiamo riempire tutte le piscine con le palline colorate andiamo uno due tre quattro cinque cinque autocarri con cassone ribaltabile e vanno verso gli scienzi ecco lì versiamo le palline viola nella piscina viola fantastiche fantastiche facciamo subito un tuffo in alto con l'ascensore e giù dallo scivolo che tuffo un vero spasso sì e ora riempiamo la piscina gialla con le palline gialle vai macchina sportiva subito un tuffo wow che tuffo è sempre più bello ecco le palline blu è un bellissimo blu dobbiamo proprio farci un bellissimo tuffo attenzione attenzione via oh 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 che succede? che succede? ah la macchina sportiva fa un tuffo all'indietro wow ah ah presto le palline verdi wow bellissimi questi colori un bel tuffo non ce lo toglie nessuno ciao wow bellissimo mancano le palline rosse e ora guardate la piccola macchina rossa fa un tuffo immersa nelle palline del suo stesso colore la macchina è felicissima nel frattempo anche l'ultimo camion torna al garage buon riposo camion a presto amici veicoli da lavoro betoniere colorate questo camion porta auto è a due piani ha un nome curioso bisarca e sta trasportando delle macchinine grigie ma dove le sta portando? guardate degli scivoli che finiscono su vasche dello stesso colore mmmm le vasche sono vuote siamo ai garage qui ci sono i grandi veicoli da lavoro dalla porta gialla esce una betoniera gialla che cosa ha dentro al tamburo? vediamo vediamo vernice gialla wow si aprono altre tre porte e escono altre tre betoniere quante sono in tutto? gialla uno blu due verde tre rossa quattro quattro betoniere quattro colori seguiamole dove stanno andando? io le betoniere si avvicinano ognuna alla vasca del proprio colore e riempiono le vasche con la vernice vernice gialla rossa bellissima come la blu e guardate questa verde le vasche sono colme di vernici colorate le macchinine sono tutte grigie cominciamo a sospettare la numero 3 entra in ascensore e fa un bel tuffo nella vernice gialla la numero 3 ora è una macchinina gialla si piace molto ecco la numero 1 pronta per il tuffo con un giro su se stessa splash con un po' di fatica ma ce l'ha fatta la numero 1 è felicissima la numero 1 è una felicissima macchinina rossa attenzione attenzione la 5 e la 4 si esibiranno in un tuffo sincronizzato via! spogli di vernice ed eccole la 5 è diventata blu e la 4 verde rossa gialla verde blu altre macchinine vorranno usare questi scivoli e allora buon divertimento nel frattempo le betoniere tornano ai loro garage pronte per la prossima avventura e allora presto con i grandi veicoli da lavoro